L'Inps ha presentato il suo rendiconto sociale 2023. I flussi in entrate e uscita di Inps Abruzzo confermano quelli già rilevati nell'anno precedente, con un leggero incremento, numeri che testimoniano il ruolo sociale molto importante dell'istituto in Abruzzo. Il valore aggiunto è che si testimonia all'interno di un dato, un dato di flusso finanziario. Noi eroghiamo prestazioni per 7,6 miliardi e ritiriamo dal territorio abruzzese 2,9 miliardi per contributi dell'azienda, dei lavoratori autonomi e contributi volontari. Quindi il valore aggiunto che l'Inps colloca nel territorio in termini finanziari è di 4,6 miliardi. Questo è un dato che mi preme sottolineare perché l'Inps è una bella realtà nell'Abruzzo. Nel rendiconto si evidenzia anche il problema del calo demografico. Il saldo naturale è cresciuto negativamente negli ultimi dieci anni. Il saldo migratorio si è più che dimezzato. Sul lato del tessuto aziendale si registra un numero di imprese stabili rispetto a quello del 2022. Il mercato del lavoro secondo l'Inps cresce, anche il numero di donne occupate rimane però un divario troppo grande nei salari. Il 2023 ha visto delle note positive perché il tasso di occupazione è aumentato di oltre tre punti. Siamo arrivati al 61,3% si registrava di tasso di attività che è quasi in linea con la media nazionale che era del 61,5% nel 2023. Un altro fattore positivo è la presenza di un tasso di occupazione delle donne molto avanti. È sempre molto minore rispetto a quello del tasso di occupazione del lavoratore. Quindi c'è una differenza di genere occupazionale. Tuttavia ci sono dei passi avanti enormi. Accanto agli aspetti positivi ci sono quelli negativi. C'è un 15% di NIT, cioè giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Inoltre ci sono sempre più persone in difficoltà che fanno riferimento ai vari strumenti messi in campo di sostegno. I cosiddetti NIT sono circa 27.000 giovani abruzzesi che sono NIT, che non lavorano, non studiano, non si formano.